Le autopsie su alcune vittime dell'attacco aereo nella zona di Idlib in Siria confermerebbero la presenza di agenti chimici. Gli esami sono stati effettuati in Turchia ed Ankara ha inviato i risultati alla Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nel rapporto turco si legge anche che nella zona di Khan Sheikhoun non ci sarebbe alcun deposito di armi, come invece ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli esteri siriano Moallem. Ci sono una serie di questioni relative alla formazione di una tale Commissione d'inchiesta. Dobbiamo fare in modo che non venga politicizzata. Deve essere neutrale. C'è una vasta rappresentanza in questo comitato che dovrebbe iniziare il proprio lavoro da Damasco e non dalla Turchia. A Ginevra intanto si è tenuta una riunione d'urgenza della Commissione delle Nazioni Unite che ha anche chiesto 72 ore di cessate il fuoco per le verifiche in zona. Spero che questo sia un momento di svolta. Spero che insieme a quello che stanno dichiarando i leader mondiali di avere sensibilizzato tutti alle sofferenze giornaliere dei civili. Spero che si tratti di una rinascita per la diplomazia sia umanitaria che politica. Damasco continua a ripetere che quelle armi chimiche erano in un deposito del fronte al Nusra che è stato bombardato dall'esercito e che la Siria è da sempre contro ogni attacco del genere. Dai governi di tutto il mondo però indipendentemente dalle giustificazioni la condanna è unanime.